Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventottesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Linux Mint. In settimana è stata rilasciata la versione 19.2 di Linux Mint, nome in codice TINA. Questa nuova versione di Linux Mint porta con sé l'arrivo di Cinnamon 4.2 per la versione principale di Linux Mint che offre miglioramenti nella gestione delle risorse di sistema, quindi ottimizzazioni per quanto riguarda il consumo di RAM, maggiore reattività e quant'altro. Alcune migliorie in Nemo, il file manager predefinito, l'utilizzo dei font di Ubuntu come font predefiniti di sistema e infine una ottimizzazione per quanto riguarda i temi, i temi soltanto quelli di GTK, non il tema di icone, che adesso risultano più leggibili. Il tema di icone è sempre quello vecchio che fa schifo e che non si decidono a cambiare. L'edizione con Mate vede l'arrivo di Mate 1.22, l'edizione con XFSR è sempre la solita, perché è sempre la solita versione di XFSR. I temi di Linux Mint, oltre ad aver rilasciato queste nuove ISO per chi provvede a fare un'installazione fresca, hanno avviato tramite il tool interno la procedura automatica di aggiornamento. Se siete su una versione precedente, la 19.1 di Linux Mint, potete effettuare l'aggiornamento, trovate le istruzioni su Marcosbox su come fare. È comunque una procedura molto semplice e priva di rischi. Passiamo adesso a parlare di Manjar. Le scorse settimane ha monopolizzato l'attenzione e la decisione da parte dei team di Manjar di introdurre Free Office come suite d'ufficio predefinita. Ci sono stati poi dei ripensamenti, no, non lo proponiamo, non lo proponiamo più. Alla fine adesso l'ultima decisione dei team di Manjar, salvo i ripensamenti perché questi cambiano idea praticamente una volta a settimana, è quella di non installare Free Office per impostazione predefinita. Quindi Manjar 18.1 farà scegliere la suite d'ufficio da installare durante l'installazione. È stato modificato Calamares, è stato aggiunto un modulo, durante l'installazione vi viene proposto se installare Free Office, Libre Office oppure non installare nessuna suite d'ufficio. Quindi diciamo così che sono venuti incontro alla comunità, che potesse la comunità e hanno preso questa decisione, che tutto sommato ci sta. È la decisione migliore. Salvo ripensamenti, ripeto sempre la stessa cosa perché molto probabilmente cambieranno opinione a fine settimana. Questa settimana poi ho pubblicato una piccola guida su un software chiamato Barrier, è davvero un software interessante. Che cosa consente di fare? Consente di condividere tastiera e mouse tra più computer dotati di monitor. Esempio tipico, sul vostro pc fisso, sul desktop installate Barrier e controllate tutto con la vostra tastiera super megafica, meccanica e quant'altro. A fianco avete un autocomputer che può essere un portatico oppure un autocomputer fisso dotato di monitor che volete comandare sempre con la stessa tastiera e lo stesso mouse con questo software potete farlo perché vi basterà installare Barrier su entrambi i pc, impostare quello principale dove risiede la tastiera che volete utilizzare e tramite questo software sarà possibile controllare entrambi i computer spostandovi a destra con il mouse entrete per esempio nell'altro computer che potete controllare. È una soluzione molto interessante, poi comunque all'interno del post di Marcosbox trovate le istruzioni su come installarlo perché è disponibile sia tramite Snap che tramite Flatpak oppure se ve lo volete compilare ve lo compilate. Addirittura è anche presente nei repository di Ubuntu però nel repository di Ubuntu c'è la vecchia versione, se volete rimanere in linea con l'ultima release stabile potete utilizzare il Flatpak o lo Snap. Ho poi pubblicato due piccole guide per quanto riguarda KDE. La prima consiste in una guida che vi spiega come rimuovere le Client Side Decoration CSD che sono presenti sulle GTK e vi spiego che cosa succede, ve ne sarete di certo accorti. Se su KDE andate a installare una applicazione pensata per GNOME basata sulle GTK3, esempio SimpliScan che è il migliore programma per la scansione che potete trovare in circolazione avrete un aspetto non uniforme perché il tema che viene applicato da parte di KDE il tema integrato nel sistema non è nemmeno tanto malvagia la soluzione fatta dal team di KDE quella di integrare il tema Breeze in modo tale da renderizzare bene anche le applicazioni di GTK. però magari vi viene voglia di non utilizzare i menu integrati nel CSD e vi viene voglia di utilizzare una versione standard quindi con la barra del titolo e i pulsanti delle applicazioni da un'altra parte quindi sotto e non integrati nella barra del titolo. Bene, con questa guida vi spiego come fare a installare un piccolo tour e a settarlo in modo tale che vi viene ripristinato il funzionamento quello classico di KDE anche per le applicazioni che utilizzano in CSD. Il rovescio della medaglia di questa procedura è che anche applicazioni come Firefox ne sono influenzate e quindi se su Firefox utilizzate l'opzione per nascondere la barra del titolo vi viene il solito bug che è presente anche sull'edizione XFSE di Manjaro cioè vi vengono duplicati i controlli. Comunque è una soluzione in più se volete provarla se vi piace questa soluzione trovate le istruzioni su come fare su Marcosbox mi rendo conto che spiegata così non si capisce bene però andate a vedere su Marcosbox il post legato con le immagini che un'immagine vale più di mille parole quindi andate a vedere come appare come la situazione prima e dopo e vedete se vi convince o meno una delle due soluzioni L'altro post riguardante KDE riguarda sempre Firefox con le ultime versioni di Firefox se andate o meglio con le ultime versioni di Plasma perché se non ricordo male questo bug era stato corretto qualche release fa di Plasma che succede? Succede che se andate a nascondere la barra del titolo su Firefox su KDE le schede non vengono visualizzate correttamente perché il testo della scheda è in nero su sfondo scuro perché il tema di default quello di Firefox prevede uno sfondo scuro perché si adatta alla barra del titolo e non riuscite a leggere bene la soluzione è quella più semplice è installare il tema per Firefox chiamato KDE Default Breeze una volta installato avrete risolto la situazione quindi anche se andate a attivare la posizione per nascondere la barra del titolo le schede risulteranno leggibili Restando sempre in tema KDE c'è stata pubblicata su Twitter da parte di un sviluppatore che si occupa di sicurezza informatica è un proof of concept che mostra una vulnerabilità 0D in KDE Framework 5.6 ma anche questa vulnerabilità è presente anche sulle versioni precedenti quindi anche su KDE 4 la gravità di questa vulnerabilità è che potrebbe consigliere a dei file .dextop e .directory opportunatamente modificati di eseguire in modo silenzioso il codice arbitrario sul computer della vittima senza che nemmeno questi siano compiazioni su questo file quindi non deve nemmeno aprire questo proof of concept è stato pubblicato sul Twitter da parte di questo sviluppatore ha fatto incazzare la comunità di KDE perché non è stata avvisata per tempo perché come ben saprete in questi casi la prassi è quella di avvisare gli sviluppatori del software prima di pubblicare tutte le informazioni relative a questa vulnerabilità in modo tale da consentire agli sviluppatori del software di arrivare già con una soluzione e c'è stata un po' di polemica appunto per il comportamento di questo sviluppatore che non ha avvisato i team di sicurezza di KDE comunque non preoccupatevi perché il team di KDE ci ha già messo una patch la patch è già disponibile su KDE Neon quindi per tutte le altre distribuzioni arriverà nel più breve tempo possibile mi auguro per maggiori informazioni su questa vulnerabilità andate a dare una lettura all'articolo che ho pubblicato dove ci sono anche le informazioni tecniche che sono state pubblicate da Penner su GitHub Penner è il tizio che ha scoperto questa vulnerabilità l'ultima notizia riguarda l'avvio di una nuova rubrica che ci sarà su Marcosbox rubrica che sarà alimentata da voi lettori si chiama il mio setup e come lascia presaggire il nome si tratta di una rubrica dove voi lettori potete condividere informazioni sulla vostra postazione informatica con foto sul vostro pc il sistema operativo, si spera sempre GNU Linux e le informazioni relative all'artware che avete scelto potete inviare i vostri setup tramite mail sull'indirizzo mail che trovate in aggregato oppure contattarmi tramite Facebook, Telegram, fate voi, scegliete voi come contattarmi vi ricordo che il podcast di Marcosbox è possibile ascoltarlo su tutte quante le principali piattaforme di podcasting, ci sono fatte per speaker che ancora non mi sono registrato ma comunque è disponibile su Google Podcast, Anchor, Spotify, TuneIn e quant'altro quindi a voi la scelta dovete poter ascoltare ma è disponibile dalla settimana scorsa anche la skill ufficiale per Amazon Alexa quindi se avete un dispositivo eco potete aggiungere la skill skill che può essere utilizzata nel sommario quotidiano fatemi sapere che cosa ne pensate di questa soluzione magari lasciate un commento positivo se avete Alexa ho visto che è stata installata da diverse persone però nessuno ancora ha messo una staglietta mettete sta cacchio di staglietta, vi prego per farmi capire se funziona bene, se è aggredito e quant'altro e quindi vi chiedo appunto una piccola collaborazione sotto questo punto di vista se la utilizzate su Alexa di mettere una votazione bene con questo concluso ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box lunga vita e prosperità a tutti quanti ciao ciao